Ciao, grande Pino, hai visto quella merda di Lucignolo? Sempre a parlare delle solite cazzate, di Pasquenzi, di Europe e dei loro ultimi due album. Un saluto da Gionnino. Veramente, guarda, Lucignolo è veramente la degradazione, veramente, di tutto quello di buono che c'è al mondo, veramente. Fanno vedere solo troie. È una roba allucinante. Guardate, quei ritrovi di VIP, ve l'ho detto, quelli famosi dove non gira nessuna droga, non si fanno le canne, non fanno niente. Andate a fare in culo, guarda.